Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi volevo insegnarvi un bellissimo Akan Quindi rivelerò il tutorial di quest'Akan che vedrete tra un po' Questo per farvi un regalo per i 1000 iscritti che abbiamo raggiunto Anzi vi ringrazio ancora Oltre a questo regalo, quindi questo piccolo tutorial Volevo dirvi che il giveaway è ancora aperto Per circa un'altra settimana Dopodiché spedirò quarta e quinto posto due mazzi di Phoenix E invece per i primi tre posti DVD di Shinlin The Switch Passiamo al nostro gioco Abbiamo bisogno di un mazzo di carte bianche Ovviamente sto scherzando perché come sapete La carta bianca fa parte delle Phoenix Quindi la togliamo Ok allora procediamo al nostro gioco Abbiamo bisogno di un mazzo di carte e di uno spettatore Che dovrà dirci stop in un punto qualsiasi del mazzo Quindi ci sono break assolutamente Quindi stop qui sotto o sopra? Sopra Sopra Ok quindi prenderò la carta che ci sta sopra E vedremo che è un 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E abbiamo un bellissimo asso di picche Ok Prendiamo questa carta Non serve più Adesso Un'altra volta Dovrà dirci stop in un punto qualsiasi Sotto o sopra? Sotto Sotto 6, 7, 8, 9, 10 Ed ecco un altro asso Benissimo Questo non serve più Lo mettiamo al centro Un'altra volta Sotto 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 Quindi questa volta voglio cambiare Otto O T T O O T T O O T T O Ecco il terzo asso Questa non serve più La mettiamo al centro Per l'ultima volta Dimmi stop in un punto qualsiasi Qua Sotto 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 Ok Abbiamo Un otto di fiori Metterò Questo mazzo sopra Attenzione Faccio vedere da questa posizione Ecco L'asso Di quadri Allora Passiamo al tutorial Questo Alcuni di voi già l'avranno capito È un tutorial Veramente Semplicissimo Dobbiamo disporre Questi assi In una posizione Particolare Del nostro mazzo In particolare Dobbiamo mettere Le carte Quindi il primo asso Alla quarta posizione Quindi quarta posizione Primo asso Poi contiamo Cinque Sei Sette Ottava posizione Il secondo asso Otto Nove Dieci Undici E dodicesima carta L'ultimo asso Quindi la situazione Sarà così Uno due tre Asso Uno due tre Asso Uno due tre Asso E posiamo Tutto Sopra il nostro mazzo L'ultimo asso Va messo In fondo Benissimo Quindi a questo punto Passiamo A una prova pratica Quindi dobbiamo esercitarci Nello spingere Lo spettatore A far scegliere Proprio quelle carte Quindi in base alla carta Per esempio Mettiamo caso si ferma qui Sei di cuori Allora a questo punto Possiamo utilizzare Per esempio La parola sei Quindi S e i E utilizziamo La quarta Quindi tre E giriamo la carta Oppure possiamo utilizzare Sei cuori E quindi ottava Perché tre Sei Cuori Cinque Otto Oppure possiamo spingere Per esempio due carte Contemporaneamente Nel frattempo che ci facciamo dire Quanta è la somma Della parola Delle parole Sei di cuori Lui dice dieci Nel frattempo noi Abbiamo spinto due carte Quindi contiamo una In realtà sono due Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove E dieci E utilizziamo La dodicesima Carta Perché dieci In realtà sono undici Dodici Asso di quadri Passiamo a un utilizzo pratico Ci assicuriamo che abbiamo Quattro Otto E dodici Possiamo fare qualche falso taglio Mettiamo caso di che stop il qua Possiamo fare Utilizzare sia questa Che questa carta Mettiamo caso che scelga questa Quattro Fortunatissimi Perché quattro Ci dà la possibilità Di scegliere Proprio La quarta Carta Oppure Quattro Q U A T T R O Sette lettere Meglio ancora Quindi Quattro Possiamo utilizzare Quattro Di cuori Quindi Quattro Di cuori Sono undici E utilizziamo la dodicesima carta Allora in questo caso Visto che mi è uscito un bel quattro Faccio Uno Due Tre Quattro Benissimo Posso queste E questa la metto in cima Perché se no Ho variato il mio ordine Quindi poi sarebbe Non sarebbe più Se questo lo mettiamo nel mezzo Otto sarebbe Sette E il dodici sarebbe undici Quindi lo mettiamo sopra A questo punto Facciamo di nuovo la stessa cosa Benissimo Giriamo la carta Abbiamo un sette Ancora una volta Possiamo utilizzare Il numero Sette Quindi passiamo A prendere L'ottava carta Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E giriamo La seconda carta Che è il nostro Secondo asso Posso questo E posso questo In genere La dodicesima carta È la carta più semplice Da trovare Quindi Sarebbe meglio Utilizzarla Per ultimo Quindi Prendiamo L'ultima carta E abbiamo Un dieci Quindi c'è rimasta Da prendere La nostra dodicesima carta Ok Quindi a questo punto Facciamo una doppia presa Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Utilizziamo La dodicesima carta Arrivati a questo punto Possiamo Benissimo Far prendere Una qualsiasi carta Del mazzo Mettiamo caso Che prenda questa La facciamo mettere In cima a questo mazzo E mettiamo Il nostro asso di quadri Che sta In fondo Qui A questo punto Faremo un po' di scena Diremo che Magicamente Adesso Troverò L'ultimo asso Faremo così E cadrà Il nostro Ultimo asso Restante Ok ragazzi Come vi avevo anticipato Avete ancora un'altra Settimana di tempo Per i regali Che pubblicherò Con lo speciale Dei mille iscritti Quindi andate a vedere Quel video Lasciate un mi piace Iscrivetevi E lasciate nei commenti Hashtag AleMagics Cioè Mille iscritti Mille persone Che hanno creduto in me Cioè Io non ho parole Per spiegarlo Solo Dirvi grazie Veramente Spiegarlo